Ciao a tutti bambini! Anche se lontani, continuiamo ad imparare. Voglio rivolgermi soprattutto ai bambini di seconda dell'Istituto Marcello Candia. Il nome, come ben sappiamo, è un elemento importantissimo sia del discorso sia della frase. Il nome comune è un nome che si riferisce a una classe di cose, persone o animali senza specificazione. Il nome proprio, invece, si riferisce a uno specifico animale, una specifica cosa o una specifica persona. Ecco qui i nomi comuni che ho scelto. Bambino, calciatore, cantante, cibo, città, cane, frutto, pianta. Per ognuno di questi nomi comuni ne ho trovato un nome proprio. Per bambino ho scelto Mike, per calciatore ho scelto Ronaldo, Per cantante ho scelto Elettra Lamborghini, per cibo tagliatelle, per città Venezia, per cane ho scelto Poldo, per frutto ho scelto Avocado, per pianta Gelsomino. Tutti questi nomi sono dei nomi che specificano questi nomi comuni. Quindi, ad esempio, nel caso di bambino io mi riferisco a un bambino in particolare, ovvero a Mike. Dopo aver fatto questo schema, che potete rifare a casa, anche cambiando i nomi comuni e i nomi propri, La maestra, che un po' si sta annoiando in questi giorni, ha deciso di trovare delle immagini in delle riviste o anche dai volantini del supermercato che si riferiscono ai nomi propri che ho scelto. Ad esempio, per Mike abbiamo questo bambino, per il calciatore abbiamo trovato Ronaldo, per cantante abbiamo scelto Elettra Lamborghini, Poi, per quanto riguarda il cibo, abbiamo scelto le tagliatelle, per quanto riguarda la città Venezia, per il cane ci riferiamo a Poldo, come frutto ho scelto l'avocado, e come pianta il gelsominno. Ecco qui uno schema per imparare la differenza tra nome comune e nome proprio e anche per divertirsi un po' ritagliando e incollando le immagini dei nomi propri che abbiamo scelto. Ciao a tutti, speriamo di vederci presto. Un bacio!